Quando vuoi. Salve, sono, chiamolo Dimo Francomano, Domenico Francomano, sono il direttore del GAL Terle Pescaresi che insiste nella terra della provincia di Pesca, Terle Pescaresi. Ho partecipato per la prima volta a questo Education Alture, questo Study Visit, organizzato dalla Red Rurale. Ero incuriosito, diciamo, da questa iniziativa e ho trovato, insomma, ciò che immaginavo e cercavo. Abbiamo avuto un'esperienza attiva e abbiamo avuto modo di riconoscere realtà rurali simili, ma allo stesso tempo, differenti dalle nostre. E' stato un momento per riflettere, quindi sicuramente un momento di riflessione, ma anche di elaborazione di idee, di progetti. Insomma, di idee e progetti che in ogni modo, nei singoli territori, cerchiamo di sviluppare e portare avanti. Interessante il sistema, il sistema di network creato dal consorzio Terle Chattano. Interessanti anche i percorsi, le traiettorie di sviluppo legate ai prodotti del Fuerosso, della Melina, del formaggio Casuzzolo, che tra l'altro è diventato presidio strofondo. Quindi interessanti questi percorsi da poter sicuramente, diciamo, imitare, imitare nelle nostre terre, quindi seguire e proporre ai nostri consorsi, ai nostri territori. Chiaramente ringrazio la rete rurale per questa possibilità, per questa opportunità offerteci e spero di partecipare ad altri momenti di incontro, ad altri momenti, diciamo, di formazione, se vogliamo, professionale, offerte della rete.